Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video Carpi 2 Padova 1 Ragazzi abbiamo perso anche oggi, un'altra chance buttata via in una partita dominata, dominata per 75 minuti un punteggio che era quello di 1 a 1 bugiardo perché le occasioni più grandi sono state di marchia bianco scudata ma questo è il calcio ed è giusto essere puniti in una giornata in cui il Padova ha sprecato 5-6 palle golle nitide una partita dominata, Padova in vantaggio al 12esimo con l'ex di turno più atteso Jerry Bakogu che torna il gol proprio alla sua partita di ritorno dopo un lungo stop gran palla in mezzo e Bakogu riesce da grande attaccante secondo me qual è anche, riesce a smarcarsi e a battere per 1 a 0 il portiere del Carpi sembra un pomeriggio di risalita perché c'erano le possibilità e anche i risultati che sono arrivati in questo pomeriggio davano la possibilità al Padova di un'ultima chance di un'ultima speranza salvezza ma poi arrivano le occasioni arrivano le occasioni di Baraje e anche quelle di Bakogu che vengono buttate via in modo incredibile parate assurde, errori anche clamorosi poi c'è il pareggio arriva il pareggio, gran gol di Concas complimenti al giocatore del Carpi perché ha veramente tirato di prima un gran destro sotto l'incrocio dove Minelli assolutamente non poteva farci nulla arriva il pareggio e poi un'altra grande occasione per il Padova con Baraje che è lanciato a rete viene steso ovviamente era calcio di rigore però l'arbitro ha dato l'intervento sul pallone un episodio molto molto dubbio che l'arbitro non si è seguito di punire con la massima punizione e lì finisce il primo tempo il primo tempo è finito 1 a 1 ma un bel Padova, era un bel Padova che aggrediva e ha avuto tante occasioni come ho detto con Bakogu e con Baraje il secondo tempo è la replica della prima frazione il Padova che attacca, il Padova che crea grande occasione per Pulsetti uno un colpo di testa che esce di niente e di lollo e anche dopo l'occasione di Baraje e di Bakogu veramente il Padova ha sprecato occasioni su occasioni fino ad arrivare al settantotesimo un errore a centrocampo, l'ennesimo pallone perso contropiede della squadra alleata da Castori e Arrighini che non segnava in casa dal 20 di settembre torna al gol proprio contro di noi 2 a 1 Carpi e arriva la beffa arriva la beffa, arriva il controsorpasso del Carpi che adesso non è più ultimo l'ultima in classifica è il Padova 24 punti ragazzi, 24 punti non ci sono veramente più speranze siamo in sedici, siamo nei processi e si è chiuso oggi un anno veramente da dimenticare bisogna ripartire con sicuramente degli uomini diversi un allenatore diverso io non ce l'ho contro Centurioni che è arrivato qui quando ormai il gioco era stato effettuato ormai diciamo che la sconfitta contro il Pelugia è stata quella che ha definito il nostro campionato dispiace, dispiace perché forse oggi Padova meritava assolutamente una vittoria per quello che si era visto in campo il Carpi non ha creato tanto è stato bravo all'euro goal di Concas e poi l'unica occasione avuta nel secondo tempo l'ha utilizzata al massimo il Padova che perde 2-1 l'ennesima partita nel pomeriggio in cui c'è il riscatto del Foggia che aggancia a 30 punti sia la Venezia che il Livorno e la disfota del Livorno a Ceodella 4-0 alle ore 18 si giocherà Perugia-Benevento parita che però è di alta classifica questo pomeriggio giocavano le squadre che erano impegnate per non retrocedere gli insieme alla sconfitta del Venezia contro il Brescia ragazzi non ci sono veramente parole non ci sono parole per l'occasione che abbiamo buttato via l'ennesima ripeto di una stagione da dimenticare finisce il nostro campionato finisce la nostra speranza di rimanere in Serie B dopo un solo anno retrocediamo in Serie C non è ufficiale il campo non l'ho ancora detto questo verdetto ma ormai le cose sono effettuate non ci sono veramente più speranze mamma mia ragazzi quanto dispiacere a dire queste cose per un tifoso del Padova che aveva creduto questo anno nella speranza di vedere il prossimo anno ancora una volta la squadra biancoscuata in Serie B ma invece è arrivata l'ennesima delusione Carpi 2 Padova 1 è questa l'ennesima sconfitta l'ennesima prestazione deludente di una squadra ormai in balia del futuro io vi ringrazio per l'attenzione lasciate tantissimi like iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram noi ci vediamo in un prossimo video